Il segno dello scorpione, per voi amici dello scorpione questa è una luna che parla dei piaceri della vita e dei sensi quindi è una giornata in cui potete anche lasciarvi andare, che so io, ad un pranzo un po' più abbondante cercate la compagnia dei familiari perché i familiari possono in questo momento rassicurarvi anche perché ricordiamo che la situazione rimane piuttosto complicata per voi con queste opposizioni nel segno del toro vedete nemici un po' ovunque, vi sentite anche minacciati certe volte e i familiari possono darvi invece quella pacca sulla spalla quelle rassicurazioni che necessitano anche ad un segno sempre molto sicuro di se stesso come siete voi figli di Marte a proposito Marte sta per rientrare nel vostro segno, i problemi sentimentali potrebbero in qualche modo essere amplificati questa è una giornata in cui potete approfittarne proprio per far pace con il partner qualora ci fossero stati dei problemi negli ultimi giorni come? ma attraverso la sensualità e la passionalità bene